la bague chiede don giuseppe chi è ? don giuseppe che succede ? che succede ? dice che sei mori confessato don giuseppe un'altra volta è roba nuova Don Giuseppe eh vabbè sarò occhio chi non mangia prima mangia da notte vai, vengo giù allora qua Giuseppe che c'avevo? ho fatto un'ambulante? eh oggi dò che è soccanizzato vieni vieni bravo allora adesso come io io non pensavo c'è un po' lui dall'inferno eh all'inferno stavolta gente ci sarà eh allora allora cominciamo cominciamo dai dimmelo ti ricordi quella scritta che hanno fatto tutta l'ammazza dove aveva scritto tubetto assassino eh eh ce l'ho fatta io eh tubetto assassino tubetto ce lavorava dentro l'ammazzatura che peccato è questo faceva fare il mestiere questo non è un peccato cammina dai e allora e allora mi voglio confessare voglio confessare un giorno mi sono messo l'arcozzo davanti alla gioielleria e via un giro l'orefice l'orefice dell'arcozzo? sì non è che io avevo detto mi dicevo bulova 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 e poi come vogliamo l'arighetti eh ho capito però questo non è un peccato bulova ce lo devono tutti allora tutti si dovrebbero con questa acqua di e allora 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 mi serve? ho fatto una cosa ho fatto una cosa ho fatto una cosa ho fatto una cosa allora che hai fatto? sentivo allora prima di una scuola mi so fermato lì all'edicola dei suoi stessi bene ho cominciato a guardare i fumetti e ho guardato Zagor e ho guardato Teckese e ho guardato Dylan Dog e poi l'occhio mi è andato di certi giornalisti che stanno lì a sinistra a sinistra in alto o un basso? a sinistra in alto e beh me ne so complettano con Giuseppe pieno 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 le certe cose le cose di che tipo? allora Giuseppe cose l'ordine ma ma no io ho pagato 2500 lire innanzitutto 2000 lire poi due e questo si so eh tu l'ho presi con Giuseppe tu l'ho presi l'ho rubato di dentro dita mamma ho messo io l'ho fin de' bello capo di ormoglio io ho un tuo anno santa cazzo io ho tutte le tue guarda qui sono un delinquente nato allora per un giornalista due le marie due due certo se lo potrete tre le marie perché te si sbriva a figliato e so e spero che sia tutto perché c'ho pure la tua vista io mhm ecco Don Giuseppe ti ricordi quando ti ricordi quando ti ricordi quando oh 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 allora si è un po' scudetto e mi hanno fatto la fia ancora da gli accorso e beh che me vuoi dire eh di eh ti di i candele che hanno fregato nel domo l'ho preso io erano un mazzo così Allora per questo qui sono altre cinque, cinque, cinque mi tocca segnalarle perché voi ci perdono i voti, cinque Maria, le tue padecorte, più, sì, quelle per prima, ecco, spero che sia tutto, mica ne dà fuoco a fuocare le piazze. Ehi, fuoco, no, l'altra amica mi ha fuoco, guarda, è un po' spiritoso, eh, no, però ti volevo dirlo, Giuseppe, hai visto il sindaco quando strillava, strillava davanti, strillava, strillava, io ho trovato l'acqua gialla dentro la fontana, com'è l'acqua gialla dentro la fontana, com'è l'acqua gialla dentro la fontana, com'è, 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 e invece mi ho misciato io, ma sconcio il pizzo. Gioffro, mettete giù, quell'artitrego arricchiamo le scoponotte a due a due, finché diventano disperi, guarda, no, basta, guarda, poi io non so che spingenti, per oggi, guarda, io spero che sia tutto, spero che sia tutto perché, guarda, le vecchierie sanguino. Quasi tutto, quasi, con Giuseppe, volevo dire, hai visto il gatto morto che hanno trovato le nuove poltoni e mi mettono a maestra di a Piazza Padella? Il gatto morto? Eh, il gatto morto, di niente, il gatto bello ce l'ho messa io, perché mi mettono sempre in castito, tiè, in castito, tiè, in castito, tiè, sta un anno sopra i ceci, quella povra maestra, come ti rocca ricoverata, non parlava d'altro di quello gatto morto, 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 cristiano, guarda, eh, cominci, eh, ma Dio mio, guarda, basta, non la posso sentire più, guarda, allora, fanno tu conti, sono 15 anni pari, 5 maternosti, 2 tempi di riposo, 2, però, di l'otto di dolore, e non ti assorgo il nome del padre, quindi, spirito santo, sparisci, battere, non ti voglio dire più davanti a me, grazie, 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 grazie. E mi ha detto, eh, ma com'è che non ci sceglie tutta questa urgenza di confessare? Perché papà mi voleva portare a zappare, e io ho detto, no, no, mi devo confessare urgente, così, giù c'è donato la nostra ora, tiè, se mi vedevo domenica messa, la giù c'è.